Oggi su Fanner News, calcio a 5, Virgin Cup e 4 World Cup. Il CTEUR non si iscrive alla B, subito corteggiati i pezzi da 90. Arriva il giorno del giudizio nella Virgin Cup 2014. L'Hondura sbatte l'Iran e trova gli USA in semifinale. In più gli highlights dai quarti di finale di 4 World Cup.